25 anni di attesa e non sentili. Grande, grandissima la prestazione degli uomini di Mugellesi che tornano a calcare i campi di promozione dopo 25 anni. Quella volta si trattava di promozione marchigiana, dato che il paese si trovava sotto la provincia di Pesaro e Urbino. La real missione estiva, giunta all'ultimo minuto in data 23 luglio, spinge Giallo-Bru ad accelerare operazioni di mercato. Dopo aver programmato una squadra di giovani per la prima categoria, il coraggio e la determinazione vengono lanciati anche in un nuovo torneo con l'aggiunta di due ingredienti. Nelle retrovie arriva l'ex RBSR Ciradi e in avanti l'attaccante Mezgur da queste parti in C2 a Bellaria. Di Filippo, proveniente dall'interno sanmarinese, rappresenta la scommessa principale assieme a Piva. Per Mugellesi, tra l'altro molto bravo a lavorare con i giovani, ha il debutto in campionato con i colori Giallo-Bru. Moratori causa un risentimento muscolare, parte dalla panchina. La gara, disputatosi nell'impianto in zona Mirabilandia, porta i padroni di casa del Fosso Ghiaia a fare la voce grossa nelle prime battute del match. Venturi dalla distanza alza la mira, ma poco dopo, quando serve in velocità Benini, l'attaccante in maglia numero 11, prendendo spunto dal proprio cognome, dimostra di saper fare le cose per bene. Pallonetto che scavalca a Batani, per l'1-0 bianco-nero. I padroni di casa danno il benvenuto agli ospiti del nuovo parco giochi chiamato promozione, ma in verità Innova Felti risponde come? Nell'immediato. L'iniziativa di Mezzogori, in mezzo a una serva di gambe, porta alla battuta finale Piva. Menghi blocca senza difficoltà, ma la squadra di Mugellesi ci crede e quando Balducci, in area di rigore, si ritrova sui piedi, la grande chance di bucare la porta avversaria non si fa pregare. Per il pareggio, Innova Felti, che vale l'abbraccio degli Ultras, presenti anche oggi, a seguito dei propri Beniamini. Ma Innova Felti inizia a divertirsi e dimostra di saperci stare bene nel nuovo parco giochi ed ecco che Mezzogor, prima e Di Filippo poi, impegnano Menghi chiamando il portiere all'attenzione nel mezzo a un tentativo a vuoto di testa dei padroni di casa. Ma è lo scadere del più a tempo che Innova Felti incante e diverte. I propri fans, Gori dalla destra mette al centro il tacco di Di Filippo, vale il prezzo del biglietto per il sorpasso ospite, 1-2 Micidalia e via ai nuovi festeggiamenti con la parte Ultras. L'occasione per i padroni di casa per pareggiare capita nel recupero, ma ha trovato, forse non ci crede neppure lui. Ad inizio ripresa, Innova Felti ha sulle ali dell'entusiasmo, cerca Trish, Mezzogor manda il pallone lontano dal bersaglio, mentre Babbi dall'altra parte chiama la presa a terra a Batani. Bugelli si intanto getta nella mischia muratori, l'ex gabice gradari velocità si beve, avversaria e brucia l'erba del campo prima di lasciarsi prontizzare da Menghi. Nel finale i gialloblu calano in fatto di energie, rischiando in due occasioni il tiro di Gennari viene allontanato poco prima dalla linea di porta da Radi, mentre Bertilotti un minuto dopo si divora all'occasionissima per i 2-2 sparando alto da buona posizione. L'ultima azione del match porta a questo solo di muratori, che si perde lontano dalla porta difesa da Menghi. Innova Felti è così, dopo 25 anni, festeggia il ritrovo della promozione, battezzando con un successo da neopromossi in esterna il tutto, guadagnando gli applausi della propria tifoseria. Buona la prima. Buona la prima.